Grazie a tutti. Sono un bel po' di sedie qui, vuote, riempibili, accomodatevi, non mangiamo nessuno, lo prometto, e chiusa la parentesi, cerco di cambiare un po' il tono perché... Allora, io su Carlo ho scritto tanto, non so quanto ancora scriverò. Perché? Perché è un vero poeta. Molte cose sono d'accordo con Enzo Vittello. E' un vero poeta che in questo libro, e l'ossidio di leggerlo con attenzione, molto spesso, a termine della pagina, dopo che si dispiega il logos della poesia, c'è segnato, un luogo, un indirizzo, Morterone, e poi la data. Sono quasi tutte scritte a Morterone. Poi direte, è che ce frega. No, è importante. È importante. Morterone, per Carlo Iberdizi, è una terra di visioni. Di quelle che il nostro poeta, quelle visioni che il nostro poeta sembra in grado di afferrare in forza di un kunstvolle, un parolaccio, una volontà artistica, che è quella del poeta. che si ha l'impressione, come accade quando si leggono i veri poeti, che il poeta patisca più che agisca. Uno pensa fuori un ta-ta, un kunstvolle. È un'attività, uno vuole scrivere poesie. Il poeta si alza a Morterone, davanti a questo spettacolo di montagna, dove ho avuto anch'io il piacere di andare una volta. E' un'impresa, una stradina senza guardare, senza guardare, è pericolosissima, però, che lui frequenta spessissimo. Straordinario, che porta ad un paesaggio straordinario, e il poeta si alza al mattino. e che voglio scrivere no. Lui poi spesso mi racconta, come nascono le poesie, è bellissimo, non, sentire l'esperienza del poeta. Perché? Perché il poeta, non è che si alza al mattino e voglia scrivere una poesia. A un certo punto è catturato, è portato via, deve scrivere, deve. Il kunstbollen non è il kunstbollen del poeta, ma una sorta di necessità. Però, anche qui, vorrei porre la questione in modo impossibile semplice. Di che necessità si tratta? Di te l'ho detto cose giustissime, scopo, ancora veramente molto, troppo, forse troppo. mi pensi a nessuno. Ma, da cosa si è catturato quando ci si appresta a scrivere queste cose che per l'appunto ci mettono in difficoltà? Non sappiamo bene cosa fare. Giustamente te l'ho detto basta con le spiegazioni che vogliono come dire, rendere un po' più chiaro quello che nella poesia sarebbe oscuro, no? dobbiamo chiederci, ma cosa fa uno quando è catturato e scrive queste cose? io dico che per cercare un po' di farsi un'idea di questa esperienza straordinaria della vera che sia come quella di Carlo, non possiamo che cominciare a riflettere brevissimamente, semplicissimamente, sul parlare quotidiano sui flussi di parole che quotidianamente attraversiamo e ci attraversano. quali caratteristiche hanno il flussi di parole quotidiano che frequentiamo dalla mattina alla sera? quando per l'appunto comunichiamo o ci illudiamo di comunicare? quando cioè ci collochiamo in quella dimensione di transitività che non è quella della poesia? cosa facciamo? provate a passarci un po', non è poi io modesto, immodesto punto di vista faccio anch'io come Fabri Martini no? vedo luce modesto, immodesto punto di vista e cosa facciamo? facciamo se ci pensate una cosa molto semplice noi nominiamo esperienze assolutamente irriducibilmente uniche uniche irripetibili inconfondibili le nominiamo producendo istantaneamente una confusione le omologhiamo ogni nostra parola è un trasfigurare questa esperienza di irripetibili individualissima unica qualsiasi parola che fa questo perché qualsiasi parola se ci pensate bene è un significato universale noi cerchiamo disperatamente di intenderci utilizzando significati universali che tradiscono in quanto tale l'unicità dell'esperienza che di volta in volta la vita ci propone casa luce tavolo amico sono tutti concetti universali poi c'è possiamo sforzarci di dare un significato più preciso tavolo questo tavolo qui che è in questa stanza che è in questo palazzo in questo momento della giornata e cerchiamo di restringere il campo ma sono tutte parole universali grandi filosofi ce le hanno spiegate le parole sono tutte trattrici rispetto a quello che dicono cercano disperatamente e lo dicono di disegnare l'esperienza della sua illucidità e quando diciamo ad esempio stupido stupido non è tanto quando un innamorato dice come nella pubblicità ti amo uno dice eh che significato quante persone amano beh che sono tu però noi che diciamo questa parola sappiamo benissimo che ciò che stiamo intenzionando è assolutamente unico e riducibile è un'esperienza che però nel testimoniare nel cercare di comunicarlo perché nelle relazioni sociali non possiamo che e lo facciamo comunque ci piace o meno lo si voglia o meno che cercare di farci capire non possiamo che tradurre cioè trasportare quell'esperienza in una confusione universale in cui le cose si confusano perché quando dico amo dico una parola che si dice mille modi mille volte al giorno mille luoghi del mondo e quindi come dire mi faccio capire dall'altro cerco di capire dall'altro proprio con un gesto parruzzale volendo dire quello che sto provando in un momento ma finendo per dire una cosa totalmente universale e non individuale comune comune beh la filosofia da sempre fa questo però cerca il comune la coinonia l'unità del molteplice significati che raccolgono sotto di sé tante cose più cose possibili addirittura addirittura il significato per taloni più universale di tutte la filosofia insegnano fior di filosofi è quello sguardo che si apre sulla totalità tutto sul tutto e non a caso la filosofia assai presto nomina una parola che ritiene di poter abbracciare il tutto l'essere Platone dice una cosa sui poeti anzi sulla poesis parola la tradurgo ma con poesis da cui poesia da cui arte fare dell'arte la produzione chi lo sa Platone dice questa cosa qui che la poesis in sostanza conduce all'essere il non essere parole filosofiche difficili altrose beh conduce all'essere se quello che ho detto ha un qualche senso dovrebbe essere chiaro che significa condurre a quella dimensione che abbraccia tutte le cose ogni cosa è qualcosa giusto? ma questo non essere che verrà capitato all'essere cos'è questa roba? cos'è questa roba? beh innanzitutto ascoltiamo la parola non essere se l'essere è la parola più universale il non essere è la negazione di questa massima universalità la poesia dicendo quindi sembra quasi non poter che condurre ciò che non è universale laddove invece esiste il luogo della universalità massima il poeta come diceva anche bene mi chiedo dice delle parole che ha le nostre orecchie e le che rischiano di farci pensare a quello che noi pensiamo i significati universali vento è vento c'è il vento questa mattina c'è il vento dell'altra sera esatto vento il poeta parlando è generale con i morcò perché dice delle parole a cui pensavi però Platone che ha capito bene la questione aveva paura dei poeti è una questione di sé ma insomma semplificiamola capisce che sono personaggi da tenere avanti perché questi trasportano sul piano della comunicazione della universalità del concetto ciò che non è universale che non è concetto e ce lo sbattono di fronte c'è la prima poesia di questo bellissimo libro che dice non è come in Roma vittima ma insomma è come il poeta Einstein non c'è né di varianza importa il diverso è un tracimo nel contesto di un'uguaglianza la fa donna spiega la poesia attenzione donna non puoi spiegare la poesia ma qui la poesia si spiega in forma parossale dice ciò che importa è il diverso non ciò che tracci nel contesto dell'uguaglianza adesso non c'è no e allora stai spiegando con la poesia cos'è la poesia sto dicendo che questo che sto dicendo non significa quello che sto dicendo eh questo sto dicendo se questo è vero la mia spiegazione non ha nessun senso quel paradossio se questo è vero non è vero questo è il problema con cui la poesia si costringe a fare i compiti sto spiegando con concetti sto spiegando con concetti universali il fatto che la poesia non vuole e non può e non dà concetti universali ma immette sul piano dell'universalità qualcosa di tremendo per il piano dell'universalità insostenibile rompe la coenonia questo fa il poeta ci scaraventa nell'orizzonte di un polemus assoluto qual è il polemus la guerra l'opposizione assoluta quella delle esperienze individuali irriducibili che non sono appomunate da nulla polemus irriducibile ciò che non è accomunato da nulla può essere in lotta radicale tutto il resto il poeta di Carlo Iberizzi lo dice in forma evidentemente prossa che sta dicendo qualcosa che sia vero quello che dice non è riducibile a questo qualcosa che abbiamo spiegato e allora questo polemus questa rottura di ogni relazione l'ha detto anche in Piero prima in altro modo questa questo patimento che costringe il poeta a fare tutto ciò è davvero come Platone l'aveva capito uno sporgersi azzardato qui cito Iberizzi sui dirupi insovrati i dirupi le alture di Morterone che a lui dicono questo dicono questo una pagina dopo le poesie che ha letto in Isabeti alla prima c'è un'altra poesia nuda l'ordita arsa dall'igno vento si invertica senza tempo l'inusca altura incarbonita senza fine catastro d'alba riduce vano collocauto del niente queste inuste alture sono le sporgenze di individualità irriducibili che dicono polemus assoluto che non vogliono lasciarsi ridurre ai significati che significano negando quel che significa ma così facendo e tutte le poesie in caso io voglio leggere altre sennò poi diciamo il poeta che la legga ma e tutte le poesie martellano ossessivamente su che cose? su questa sporgenza del dire poetico che vuole toccare queste polarità irriducibili queste differenze irriducibili che non lasciano ricondurre alla identità dei concetti dei significati nella piena consapevolezza che in questi vertici in queste alture in queste sporgenze in queste erde sempre 3-1 dicendo infernizi si sta dicendo che cosa? si sta dicendo propriamente quello che in altro modo anche l'interno aveva testimonato prima dicendo attenzione non parliamo del lungo di flottino però però si sta dicendo quel vento nil parole di invernizzi quella indeterminatezza cioè negazione dei significati universali come dicevo prima che non è né alto né basso non è né sotto del sotto né da nessuna parte perciò ogni parola può osare tentare di farla risuonare di farlo risuonare questa indeterminatezza questo vento nil che trema in ogni parola che si pronuncia poeticamente che fa tremare ogni parola e la sospende alla sua nuda individualità quindi è proprio l'opposto detto nella sua assoltezza e finisce per dire non l'indistinto della concettualità del significato comunicativo il vero indistinto il vero indistinto e proprio perché è vero indistinto non può essere agito dal poeta non è mai prodotto attraverso un'intenzionalità consapevole dal poeta ma il poeta patisce perché è il vero indistinto che nega anche il concetto con cui lo stiamo dicendo che è un concetto quello dell'indistinto è ovvio che fa tremare anche le parole che cercano di dirlo vero indistinto l'instabile informe movimento di molecole dice Carlo Bernizi tenta la mente indicibili parole quali sono le indicibili no le parole complesse sono le parole che si situano in questo polibus assoluto sulla soglia dell'informe che fluita dell'indistinto che si dice non a partire da una profondità avvissale da un altro avvissale che si dice nel non riuscire a dirsi